Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati su Luca Toselli, nerd e retro. Ok, sta diventando veramente una dipendenza patologica, ma mi sta piacendo, vi sta piacendo Pokémon Pocket e quindi parliamo, noi cerchiamo di battere il ferro finché è caldo. Vi ho già portato due video, il primo in cui vi raccontavo la mia esperienza con il gioco, come sono arrivato a giocare, quelle che sono le mie considerazioni generali su questa nuova applicazione di Pokémon, il secondo invece dove vi mostravo la mia collezione, dove vi facevo vedere un paio di partite con i massi che sto giocando, apro e chiudo a parentesi, ho trovato Lapras, l'ho trovato ben due volte, ho completato l'evento di Lapras, ho fatto una ventina di buste senza trovarlo e poi ho trovato due Lapras in tre bustine, così, alla fine, mentre provavo un po' a completare l'evento, evento che tra l'altro ho completato in tutte le sue caselline, mi pare 14 su 14. Poi, cosa è successo? Nel video di ieri vi ho domandato se potevate essere interessati ad osservare insieme a me quelli che, secondo me, sono i massi migliori del gioco. Ne avete detto di sì e quindi eccoci qua. Oggi andremo ad analizzare i sei migliori massi presenti all'interno del metagame iniziale di Pokémon Pocket. Sono soltanto quelli a disposizione di questa prima edizione rilasciata, più le promo ovviamente che sono qualcosa a parte e ovviamente questo video sarà in continuo di venire perché più edizioni verranno inserite all'interno del database e più massi verranno creati e sarà possibile creare. Non andrò a descrivervi nessuno dei due massi che invece vi ho portato ieri, ma se questo video vi piace posso fare anche altri contenuti riguardanti i massi Tier 1.5, quindi non i due Tier 0 e il Tier 1, bensì i massi un po' più budget, un po' più accessibili anche per le prime ore di gioco e che possono comunque darvi qualche buon risultato a livello di matchup incontrati all'interno del gioco. Se tutto è pronto vi invito a lasciare un mi piace a questo video, scrivermi nei commenti il mass che invece state utilizzando al momento e poi iscrivervi al canale qualora non l'aveste ancora fatto. Iniziamo! Per fare questo video utilizzerò Pokémon Zone che è un sito veramente molto comodo per quanto riguarda questo nuovo Pokémon Pocket e viene suddivisa già un insieme di deck, di liste giocabili all'interno delle Tier, quindi Top Tier, i due Tier 0, quelli composti da Mewtwo, X e Pikachu EX, sono i due massi migliori. Poi abbiamo gli High Tier deck, quindi Charizard, Starmy, Venusaur e Maruak. E poi abbiamo i Middle che potrebbero essere quelli che andiamo ad analizzare all'interno del prossimo video con qualche mazzo che potrebbe mostrare potenziale ma ancora non sappiamo dove potrebbe posizionarsi e poi abbiamo i Low Tire deck, quindi i massi peggiori da poter giocare in questo momento che non ce la fanno a stare al passo con quegli altri ma che magari con qualche strategia, qualche carta che potrebbe venire stampata prossimamente potrebbe trovare più spazio. Allora, direi di partire da Pikachu, che forse è il Pokémon iconico di sempre, il più iconico di sempre all'interno dell'intero brand del franchise Pokémon. Pikachu EX è una carta fuori di testa. 120 HP, quindi punti vita, per un Pokémon base EX. L'hanno messo praticamente sullo stesso livello degli uccelli leggendari. Zabdos, Moltres, Articuno, se vogliamo anche Lapras, che è comunque una carta promo ottenibile, però Pikachu EX è veramente troppo troppo forte. Ha la possibilità di ritirarsi con un'energia come quasi tutti i Pokémon presenti all'interno di questo gioco, tranne appunto magari degli uccelli leggendari perché Articuno comunque si ritira con più energie e ha una resistenza di 20 al tipo lotta. Ma la cosa veramente assurda di questo Pikachu è il fatto che con soltanto due energie di tipo elettro, tra l'altro elettro è l'elemento che danneggia tutti e tre gli uccelli leggendari e sono giocatissimi perché sono carte assolutamente in meta. A questo punto con soltanto due energie di tipo elettro riesce a infliggere un sacco di danni. Questo è un mazzo che va ovviamente a massimizzare l'effetto dell'attacco di Pikachu. 30 danni per ogni Pokémon di tipo elettro presente nella panchina del giocatore che possiede Pikachu. Quindi veramente tanta tanta roba. Essendo che ovviamente il mazzo gioca tanti altri Pokémon da mettere in panchina, questo mazzo forse gioca un po' più Pokémon rispetto al solito perché non abbiamo per dire la possibilità di giocare misti qui dentro che è un trainer molto molto forte, un aiuto molto molto forte. Qui si cerca di ottimizzare l'attacco di Pikachu e ovviamente con due energie arrivare a fare 90 danni, quindi di secondo turno arrivare a fare 90 danni. Ragazzi stiamo parlando veramente del nulla. Zabdos è una carta molto interessante soprattutto perché ha tanti punti vita. In realtà ha la possibilità di attaccare già con un'energia che non è per nulla male. Il secondo attacco è un attacco molto rischioso ma potenzialmente arriva a fare invager 200 danni. Ci sono veramente pochi Pokémon per non dire zero che resistono a 200 danni diretti, però ovviamente bisogna essere molto molto fortunati. E poi abbiamo Voltorb che va a completare questo mazzo in cui abbiamo la possibilità di evolvere in Elekrod che con due energie, 70 danni, 80 punti vita non è per niente male. Più tutti i trainer che va bene, sono fissi all'interno di tutti i mazzi. Senza queste carte sarebbe impossibile giocare a questo gioco. Beh, questo è un mazzo molto interessante perché richiede poche energie per generare tanti danni. È un mazzo molto veloce, potremmo definirlo quasi una sorta di mazzo agro perché non ha necessità di caricarsi, non ha delle strategie in cui devi cercare di incastrare qualcosa. No, devi incastrare due energie elettro su Pikachu e dei Pokémon in panchina. Quindi questo è un mazzo veramente molto molto agro che ha una variante ovviamente con la possibilità di far evolvere pure Pikachu in Raichu e l'utilizzo di Lister Surge che è un trainer che potrebbe essere utilizzato per cercare di pompare Raichu anche se mi sembra molto molto più forte questa variante, quella con Voltorb e Elekrod. Poi c'è anche la possibilità di giocarlo con Blitzel e Zebstrika. Zebstrika non mi dispiace per niente perché ha 90 punti vita e con una sola energia riesce a fare 30 danni a un Pokémon dell'avversario, quindi a sparare anche ai Pokémon in panchina all'avversario andando oltre quelli che sono che è il suo Pokémon attivo. Quindi molto interessante come strategia però vi posso dire la verità secondo me la migliore è quella che abbiamo visto all'inizio anche se sto vedendo molto spesso giocare Magneton dato che ha il potere Pokémon. Ecco i poteri Pokémon credo che siano super rotti in questo momento perché sono possibili attivarli pure dalla panchina anche se Magneton diciamo che non è esattamente il Pokémon migliore da questo punto di vista ha tanta volontà tanta necessità di caricare questo attacco perché quattro energie sono veramente tante con Volt Charge può accelerare questo procedimento però 60 danni sono troppo poco per quattro energie anche se Magneton può accelerare con il suo potere Pokémon. Questo è un mazzo molto giocato secondo me davvero il miglior mazzo del formato in questo momento non esagero anche perché riesce a essere un buon counter per i mazzi di tipo acqua e sono tanti perché abbiamo Starmy abbiamo Blastoise abbiamo Articuno abbiamo tanti Pokémon EX forti di tipo acqua abbiamo Misty che è molto molto forte come trainer quindi probabilmente questo è il mazzo migliore al momento e tutto sta nel fatto che hanno deciso di creare un Pikachu veramente troppo troppo forte però diciamo che i tre pacchetti tra i leader della prima edizione sono appunto Pikachu, Mewtwo e Charizard che sono Pokémon emblematici della prima generazione e in generale del brand della storia di Pokémon e quindi hanno tre carte EX molto molto forti tant'è che Mewtwo è insieme a Pikachu l'altro mazzo migliore. Se prima l'abbiamo etichettato come un mazzo aggro perché di quello stavamo parlando quello di Mewtwo non lo so potremmo definirlo una sorta di tempo se vogliamo possiamo definirlo tempo o forse combo può essere definito in questo modo si basa ovviamente su Mewtwo EX che è una carta fuori di testa adesso la possiamo vedere qua nel suo insieme anche qui Pokémon base quindi alla sorta di Pikachu è un po' come l'idea di Pikachu e il fatto che siano i due massi migliori e che invece Charizard provenga da una catena evolutiva credo che non sia assolutamente una coincidenza perché Charizard te lo devi formare invece Mewtwo no, puoi giocarlo direttamente di primo turno e con solo due energie riesce a infliggere 50 danni più l'attacco finale da 150 punti vita che è in grado di spassare via quasi tutti i Pokémon principali del gioco non dico tutti perché ce ne sono alcuni che reggono un singolo attacco di Psy Drive però è ovvio che Mewtwo insieme a dei trainer interessanti come può essere Giovanni o dei Sabrina che possono switchare il Pokémon dell'avversario andare a rubare una kill con 150 danni beh è un bel tankone con 150 punti vita secondo me dopo Pikachu la carta migliore di tutto il gioco però ovviamente Psy Drive che è la mossa la ultimate di Mewtwo ha una contraindicazione e cioè una volta utilizzata per fare così tanti danni dovrai togliere due carte energie e scartare due carte energie dal Pokémon che ha utilizzato l'attacco ecco che in questo caso corre in aiuto Rals e la sua linea evolutiva coerente per il tipo di typing scusate il gioco di parole quindi sempre tipo psico non c'è necessità di splashare un secondo colore per giocare questo mazzo Rals che diventa Kirlia che diventa Gardevoir e qua entriamo all'interno ancora di quello che dicevo prima e quindi l'importanza di avere un'abilità no un potere Pokémon come si diceva ai miei tempi e la possibilità in questo caso di non rampare Gardevoir come nel caso di Magneton bensì un altro Pokémon quindi Mewtwo ogni turno potremmo aggiungere un'energia psico aggiuntiva a Mewtwo più quella di turno significa che ogni turno Mewtwo andrà ad avere due energie quindi la possibilità di fare una sorta di un doppio energy drop e questo ci permette tutte le volte di ricaricare l'ultimate di Mewtwo scartare due energie e il turno dopo assegnare due energie senza dover far cambi perché Gardevoir portarsene tranquillamente serenamente in panchina e poi nel caso dopo che Mewtwo ha fatto il lavoro sporco entrare come finisher e con tre punti con tre energie fare un danno di 60 credo che questo mazzo sia molto simile a quello che avete visto ieri ieri vi ho portato è un mazzo che bene o male giocava con la stessa filosofia io l'ho chiamata tempo secondo me tempo è proprio il modo migliore di definire questo mazzo perché perché nel mentre che portiamo avanti una strategia con Mewtwo abbiamo il tempo di portarne avanti un'altra in parallelo e che dalla panchina ci dà un supporto e secondo me quello di Greninja e Articuno che vi ho portato ieri è molto molto simile come gameplay a questo il punto è che davvero Mewtwo oltre ad avere delle debolezze che in questo momento sono ridicole perché stiamo parlando di una debolezza al tipo scurità e non ci sono dei grandissimi pokemon fortissimi pokemon ix o delle strategie impattanti in questo momento poi magari verranno fuori con dei pokemon di tipo scurità e quindi giochiamo già con una sorta di bonus aggiuntivo quindi pikachu aveva il bonus di tenere a bada gli uccelli leggendari e tenere a bada i pokemon d'acqua e quindi misti Mewtwo ha invece la potenzialità di avere poche debolezze e veramente una strategia molto molto lineare qui non abbiamo alternative perché al massimo può inserire jinx che però diciamo è abbastanza più scarso rispetto a tutto il resto quindi questa è la build di Mewtwo ottimale che puoi giocare in questo momento e quasi tutte derivano dal pacchetto di Mewtwo che puoi aprire perché ogni pacchetto poi ha delle carte esclusive al suo interno se non Sabrina che si trova all'interno di Charizard però tutto il resto deriva direttamente dalle buste di Mewtwo quindi questa sicuramente è una strategia interessante personalmente andrei a giocare questo mazzo se avessi la possibilità di avere due Mewtwo meno zero andrei a giocare questo mazzo linea evolutiva di rals ce l'ho chissà che un giorno non possa arrivare anche il mio momento e poi abbiamo Charizard concludiamo i tre grandi pokemon di questa espansione con Charizard questo è un masso che potremmo definire ramp io sto utilizzando tutti tutte terminologie che derivano dal mondo magic per dare un po di confidence con chi approcciato magari questo gioco e giocava a magic ma perché ramp perché in questo caso la strategia è diametralmente opposta fino adesso abbiamo visto Pikachu e Mewtwo come pokemon attivi che devono essere i pokemon principali da inserire in prima fila e sono loro che vengono pompati nel mentre che giochiamo semplicemente Pikachu nel mentre dovrà andare a caricare dei pokemon panchina e Mewtwo nel mentre dovrà sviluppare la catena evolutiva di rals qui invece abbiamo il contrario Charmander che va sviluppato in panchina perché come pokemon attivo tu vai a mettere Moltres ok Moltres EX anche qui abbiamo un come nei casi precedenti un pokemon EX forma base da schierare come pokemon attivo abbiamo visto che i mazzi girano in questo caso schieriamo Pikachu schieriamo Mewtwo schieriamo Moltres sono tutti e tre pokemon base sono tutti e tre pokemon base EX che per motivi differenti diventano dei lead interessanti Moltres perché ha l'inferno dance al costo di un'energia di tipo fuoco ti fa lanciare tre volte una moneta e ogni volta che esce testa puoi prendere un'energia fuoco e assegnarla a uno dei pokemon che hai in panchina questo diventa molto interessante perché in questo modo riusciamo a rampare quelle che sono le energie da assegnare a Charmander che diventerà Charamilion che diventerà Charizard perché dobbiamo fare questa cosa perché Charizard è fortissimo ha un attacco da 200 danni che va a rimuovere dal gioco qualsiasi avversario non credo mi vado a memoria ma non credo che ci siano pokemon in grado di resistere ai 200 danni di Charizard EX non ci sono fa piazza pulita quindi è il pokemon più forte da questo punto di vista ma per fare questo dobbiamo scartare due energie come prima nel caso di Mewtwo e se l'idea di Mewtwo era ramparlo turno dopo turno per non doverlo switchare tutte le volte qui invece abbiamo Moltres che ogni turno andrà a fare un inferno dance che è una sorta di misti di fuoco se vogliamo senza la necessità di pescarlo tutti i turni avremo anche la possibilità di usare più aiuti quindi all'interno dello stesso turno perché possiamo fare inferno dance più professor rock paradossalmente di primo noi possiamo rampare tre energie a Charmander e pescare due carte è una roba fuori di testa proprio proprio fuori di testa maggior ragione se il nostro avversario ha schierato un solo pokemon attivo con i cartellini rossi possiamo anche andargli a togliere due carte dalla mano o una carta dalla mano perché magari ne ha quattro in mano che sono linee evolutive o aiuti o allenatori e quindi andiamo a togliergli veramente tutto quello che gli è rimasto se facciamo una partenza con cartellino rosso che gli toglie una carta professor rock che ne dà due noi quindi facciamo un vantaggio di una carta virtuale con un vantaggio una carta virtuale con red card in più andiamo a fare inferno dance e andiamo a pompare il nostro Charmander di tre di primo non lo possiamo fare perché non possiamo assegnare energie però in questo caso possiamo rubare una carta virtuale in più al nostro avversario cioè fa delle partenze sgravate veramente le partenze sgravatissime e se riusciamo poi a mettere online la linea evolutiva di Charmander ciao e poi entra Charizard e complimenti se riesce a resistere a questi attacchi complimenti ci sono anche delle varianti con Rapidash perché è interessante perché con una sola energia di tipo fuoco riesce a fare 40 danni e a 100 hp però mi sembra decisamente più utile avere delle carte in più come può essere il red card perché non hai assolutamente bisogno di una linea evolutiva in più che può andare a toglierti a depotenziarti anzi pokeball perché ovviamente la necessità di mettere online la linea evolutiva di Charmander è evidente e quindi questa diventa potenzialmente un tutore di alto livello questo è il massimo di Charizard possiamo davvero considerarlo un ramp quindi in questo momento abbiamo visto un aggro che è quello di Pikachu un tempo che è quello di Mewtwo e un ramp che è quello di Charizard un altro massimo secondo me abbastanza aggro è questo qui che è quello di Starmy che è il massimo di riferimento in questo momento qua per quanto riguarda il tipo acqua si gioca in questo modo la linea evolutiva di Starryu perché Starmy X è una bestia c'è un altro modo di definirla è una bestia a tutti gli effetti perché Starmy con due energie fa 90 danni ha una linea evolutiva da un solo pokemon ha 130 di punti vita ha sì una debolezza al tipo elettro che va a potenziare ancora una volta Pikachu ma non ha costi di ritirata stiamo parlando veramente di una bestia quindi noi abbiamo la possibilità qui di non giocare nemmeno la ritirata X è vero che Articuno ha un costo di ritirata pari a 2 ma è abbastanza possibile arrivare a ritirarlo senza dover ricorrere a questo quindi Starmy veramente picchia come un fabbro non ho un altro modo di descriverlo è un pokemon molto forte mi manca ho 0 Starmy è un altro mazzo questo qua che mi piacerebbe giocare perché credo che possa cadere nelle mie corde e nel frattempo che evolviamo Starryu in Starmy e gli assegniamo due energie possiamo andare a iniziare a rompere i coglioni ai pokemon avversari con Articuno che può attaccare con due energie se ne arriviamo anche per caso a tre possiamo fare una bella Bora una Blizzard che inizia a rompere le scatole anche quelli in panchina che possano diventare quelli attivi e nel frattempo ne possiamo pure rampare con Misty che è il supporter l'aiuto la carta aiuto per i pokemon d'acqua che in questo momento mi sembra abbastanza sgravata meno male che auto nerfata dal sistema dove spossi volentieri lanciando una bella moneta questa tra l'altro è una moneta di Pikachu molto molto vecchia degli anni 2000 non sono riuscito a metterlo a fuoco ma ve l'avevo già fatta vedere sul canale durante l'unboxing del box di Tempesta tutte le volte che lanci la moneta con Misty o comunque gran parte delle volte abbiamo la possibilità di trovare croce alla prima e quindi sprecare tra virgolette un turno però ci sono dei turni in cui questa cosa funziona e diventa molto importante c'è la variante anche con Greninja credo che sia migliore quella con Articuno perché Articuno può tancare e quindi seguire quella strategia che abbiamo visto fino adesso di mettere come pokemon attivo un pokemon EX di tipo base di primo turno qui dovresti costruirti e quindi hai la possibilità di essere meno fortunato nel riuscire a costruire due linee evolutive differenti Greninja è molto forte come pokemon ma secondo me è forte insieme a Articuno proprio per il discorso che può tancare con Greninja diventa veramente un super aggrone a livelli allucinanti questo mi sembra invece una variante un po' più equilibrata qua ci vuole anche secondo me abbastanza fortuna nel riuscire a incastrare una giusta linea evolutiva però questo secondo me è un mazzo molto molto forte è vero che non stiamo parlando né di Pikachu né di Mewtwo però secondo me questo è più forte anche di Charizard mia opinione basata su quello che ho visto fino adesso e poi abbiamo Venusaur questo se vogliamo è il primo mazzo di tipo controllo che possiamo trovare all'interno del primo metagame di pokemon pocket perché ovviamente abbiamo la linea evolutiva di Bulbasaur insieme come supporto abbiamo la linea evolutiva di Petlit perché l'Illigant con due energie ha la possibilità di fare lift support e andare a rampare il nostro Bulbasaur e Visauro Vene Saur che sia questo perché perché Venusaur credo che sia il tank più grande presente in questo momento all'interno del gioco con 190 punti vita e ha la possibilità con quattro energie quindi veramente tanto di fare un attacco da 100 che non è altissimo perché abbiamo visto attacchi da 120 da 150 addirittura da da 200 però la possibilità con quattro energie di infliggere 100 danni e in più curare 30 punti vita a questo pokemon il che è tantissimo perché stiamo già parlando ripeto del pokemon più tank del gioco e Venusaur riesce a guarirsi da solo in questo modo veramente riesce a guarirsi da solo riesce a fare un bel gap tra noi il nostro avversario un gap di 130 perché 100 danni li fai lui e 30 li togli a te quindi 130 di gap se riescono a mettere online Venusaur quindi rampandolo con l'Illigant è un disastro perché perché questo mazzo gioca le pozioni quindi in un turno può virtualmente curarsi di 50 ma con Erika che è un po il misti se vogliamo di questo mazzo riesce a curare anche altri 50 cioè quindi in un turno ma metti il caso che Venusaur riesce a portarlo a 90 punti vita gli hai fatto 100 danni 150 Mewtwo gli ha fatto 150 danni con la sua ultimate Venusaur ti fa pozione pozione Erika e giga sororbimento 40 90 e 30 120 è come se Mewtwo avesse inflitto 30 danni e poi magari nel caso Mewtwo che ha già subito un colpo con il secondo giga sororbimento va pure KO e Venusaur praticamente bello l'immacolato credo che sia un mazzo poco giocato per il momento perché mi sembra una strategia fortissima con un supporter come Erika super adatto a quella che è la strategia non so perché si sta giocando poco forse perché è un gameplay non meraviglioso abbiamo visto fino adesso dei gameplay abbastanza dinamici abbastanza offensivi invece questo è un po più difensivo può essere questo il motivo boh non lo so forse perché il tipo erba comunque non ha dei grossi vantaggi di tipo se non nei confronti dei tipi terra che in questo momento non è che siano fortissimo diffusissimi quindi forse questo è il motivo per cui Venusaur non è così meta ad oggi c'è pure la variante con Exeggutor molto forte secondo me Exeggutor perché con un solo punto vita può fare veramente un sacco di danni però credo che sia molto più coerente cercare di rampare con l'illigant non mi dispiace la variante con Caterpie perché Caterpie è un pokemon unico in questo momento a parte l'immagine che è molto carina secondo me di questa carta ma controva un amico una sola energia quindi tu parti con Caterpie che diventa veramente il tuo supporter vai a prendere in maniera random un pokemon di tipo erba all'interno del master e te lo metti in mano quindi con una sorta di pokeball pokeball e Caterpie riesci a limare tranquillamente il mazzo e a mettere online la linea evolutiva di Bulbasaur quindi Bulbasaur, Ivysaur e Vonesaur e evolverli in veramente poco tempo quindi la variante con Caterpie non mi dispiace credo che sia la peggiore quella con Exeggutor la migliore quella con l'illigant una via di mezzo può essere quella con Caterpie interessante quella con Weezing non la considero chissà quale punto forte è vero che Weezing può avvelenare l'avversario quindi il discorso è col potere pokemon di Weezing vado ad avvelenarti io invece vado a curarmi tu ne perdi io ne guadagno intanto ti attacco questa è un po' l'idea di andare a stallare la partita quindi portarla veramente su un binario puramente control la debolezza di questo mazzo che però ha l'accesso pure a Koga come ovviamente supporter in modo da poter anche salvaguardare un po' quella che è la linea evolutiva di Koffing ritornare allungare il brodo quindi veramente un mazzo super control questo qua però ovviamente per arrivare a metterlo online hai la possibilità di far girare per il mazzo delle energie di tipo buio che potrebbero non essere proprio bellissime poi la grande fortuna di Venusor è che due di quelle quattro che ti servono per il giga assorbimento sono in colore quindi bene o male dovresti riuscire in qualche modo a cavartela molto interessante il fatto che Bulbasaur già da pokemon di tipo base abbia 70 punti vita e picchi per 40 con due energie quindi già Bulbasaur è un pokemon molto molto forte nel suo stadio base ripeto Venusor X secondo me è fortissimo probabilmente il motivo per cui in questo momento non si sta usando è il tipo di gioco che va a fare il mazzo e le debolezze che il tipo erba riesce ad andare a coprire che non sono il massimo tant'è che l'ultimo top tier che andiamo a vedere comunque nei primi sei mazzi del gioco è quello di Maruak EX qui tutti i pokemon sono deboli al tipo erba anche se non tutti tipo lotta lo sono perché abbiamo dei tipo lotta che sono deboli al tipo psico come la linea voluta di Machop per dirne una però sia cubon che digrid che in realtà sono tipi terra sono deboli al tipo erba questo possiamo non lo so definirlo secondo me combo questo credo che sia combo a tutti gli effetti perché perché il motivo è che questo mazzo si basa fortemente sul lancio della moneta quindi è combo perché se tu riesci a scombare con la moneta quindi un mazzo molto molto basato sulla fortuna Maruak EX vabbè abbiamo cubon che dà la possibilità di coprirsi un pochettino corruggito nei primi turni in cui metti online Maruak ma Maruak con due energie e 140 HP ti fa Osomerang mi pare che si chiami l'attacco anche nel gioco proprio non mi ricordo mai se Osomerang o Ossoboomerang ma mi sembra Osomerang con due energie 80 danni ogni volta che esce testa 160 pappine di secondo non sono graditissime sono pochi pokemon che andrebbero a gradire un doppio testa con Maruak poi vabbè abbiamo Diglett la linea evolutiva che porta Dugtrio che ha una diga però anche qua si boh è tutto basato sul lancio della moneta perché anche diga è basato su dig fossa non diga è fossa è basato sul lancio della moneta quindi questo secondo me è veramente un mazzo combo ma non perché devi inserire del combo non è che devi crearti del combo la combo è data dal numero di coin flip consecutivi che riesci a generare all'interno di una partita mazzo che non giocherei mai e poi mai perché veramente secondo me a una certa arrivi a impazzire perché se fai delle streak di croce consecutive ti verrebbe voglia di lanciare il telefono fuori dalla finestra ma il potenziale è molto alto perché Maruak può picchiare come un maledetto poi ci sono delle varianti abbiamo quella con la linea evolutiva di Kabuto e Kabutops io sinceramente Kabutops non l'avevo neanche mai letto fino adesso ma ripeto questo è il mazzo che mi piace di meno in generale abbiamo la variante con Sandslash invece che Dugtrio che è un po' più solida rispetto a quella di prima perché toglie un lancio della moneta è anche un po' più offensiva se vogliamo perché Sandslash con due energie fa 70 danni quindi qui è una via di mezzo tra l'aggro e il combo possiamo definirla in questo modo ad ogni modo credo che abbiamo fatto una bella panoramica anche lunga se vogliamo ma spero soprattutto completa e dettagliata di quelli che sono i sei massi in questo momento più giocati se c'è qualche massi in particolare tra quelli che sono rimasti fuori che volete vedere analizzato come strategia fatemelo sapere perché bene o male ormai ho capito il funzionamento di tutti i massi che stanno girando in questo momento nel metagame iniziale di Pokémon Pocket questo è quanto non voglio rischiare di aver creato un video particolarmente pesante spero che questi 30 minuti siano stati facilmente digeribili da parte vostra lo so ho parlato tanto però abbiamo analizzato 6 massi con punti di forza, punti di debolezza perché si gioca questo, perché si gioca quell'altro, la strategia, il modo di iniziare la partita quando si vince, in che caso si perde quindi siamo andati a toccare secondo me diverse corde di un gioco che è appena iniziato ha la sua rampa di lancio però ha tutti i concetti che negli anni mi sono sempre portato dietro da giocature di Magic quindi tante volte riesco a inquadrare una partita di Magic all'interno di una partita di Pokémon Pocket perché poi alla fine i giochi di carte sono tutti molto simili quindi devi cercare di capire la strategia che vuol fare il tuo mass, quella che fanno i massi dell'avversario cercare di ottimizzare la tua, cercare di impedire quanto più possibile quelle degli avversari per ottenere alla fine il risultato migliore e il vantaggio ragazzi questo è quanto, questo è tutto fatemi sapere nei commenti quale prossimo video volete vedere su Pokémon Pocket sì per un po' faremo tanti video su Pokémon Pocket e lasceremo passare gli altri però questo è quanto grazie per l'attenzione, un mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se avete fatto tutto non vi rompo più le scatole, chiudo il video, ciao